Musica Oggi si tengono i Latte Days all'interno del progetto europeo Latte nelle scuole che coinvolge le Camere di Commercio italiane, tra cui quella di Bolzano. La Camera di Commercio di Bolzano ha incaricato il DM Alto Adige per lo svolgimento delle attività di accompagnamento. Il Latte Days è una di queste attività e oggi abbiamo diverse classi provenienti da scuole altoatesine qui presso Mila per informarsi e conoscere più da vicino i prodotti latirocaseari. I bambini sono molto contenti e anche interessati, chiedono, ricevono tante informazioni. Per loro è veramente una giornata bella, interessante, perché i nostri bambini non è che hanno contatto con i contadini, siamo un paese vicino alla strada, per quello non abbiamo i masi. C'è un maso in paese, per quello loro proprio non hanno il contatto. Anche per quello abbiamo scelto e fatto la domanda di poter venire a questa giornata qua. Questo progetto Latte nella scuola si svolge quest'anno per la prima volta ed è importante perché è un progetto di educazione sul latte e anche sul consumo del latte e nell'ambito di questo progetto viene anche spiegato come vengono prodotti i diversi prodotti latirocaseari. Questo progetto lo riteniamo molto importante proprio per sensibilizzare i bambini per un'alimentazione sana. Nella comunità europea si parla di 22 milioni di bambini sovrappesi e di 5 milioni di bambini obesi. La comunità europea spende 250 milioni all'anno. In Italia si fa un bando nazionale. Mila Bergmeli ha vinto il lotto numero 3 che fornisce anche i prodotti a Cremona e non solo nel Tantino Alto Arece ma anche a Manto e a Bergamo. Noi ci siamo accorti che nelle grandi centri e nelle città i bambini hanno più difficoltà, non sono così sensibili per questi prodotti e con questo programma cerchiamo di sensibilizzare anche questi bambini nelle grandi città. Noi ci siamo accorti che nelle città i bambini hanno più difficoltà,